Poi la moto, intanto vedete che il treno di testa si va compattando e ripeto il sottolineo c'è anche Marco Melandri che sta facendo gara decisamente migliore rispetto a quella di ieri gara più consistente evidentemente ha risolto un po' dei... potrebbero essere diciamo un momento che può sfruttare per tirare un attimo il fiato e provare poi tra l'altro cinque e sei giri a dire anche la sua C'è stato dato Canutio, intanto apro una parentesi e ne chiuso in realtà Max che è un po' la lincea l'avevo visto passare, adesso capiremo sul traguardo che succede Si intanto volevo dire che Melandri è riuscito in questo momento a fare quello che non ha fatto ieri ovvero quando ieri si staccò dal gruppo, lui non riuscì più a recuperare mentre oggi invece ha fatto questa cosa qui, costato questo elastico, questa molla e è tornato sotto quindi vuol dire che oggi si sente nettamente più in forma di... ah si, lo testimoniano anche i tempi, 37.2 per Johnny Ray con 37.1 per Marco Melandri c'è il 36.9 però di Chats Davis che è tradotto, vuol dire, questa ruota anteriore che si infila in un ruoto lasciato dalla Kawasaki tra sé e il mondo quindi si sta prendendo le misure come l'ho fatto prima con Melandri, si è messo un giro in mezzo per capire qual'era la parte quindi si vedeva veramente che può passare, si sta rischiando di un lago spettando anche con la rai del potere, come ieri vediamo un Davis con su con l'era fuori e allora stiamo a vedere dove deciderà e quando deciderà di provare davvero un passaggio in questa staccata Davis, è fortissimo ma in accelerazione la Kawasaki si infette molto bene in uscita dalla curva che mette sul vento del traguardo ma all'interno nei campi di direzione riesce a sorprendere Johnny Ray, lì dove Johnny Ray ha fatto la differenza nei primissimi giri in partenza ha saltato un'auto che sembravano ferme, è riuscito invece Chats Demis a portarsi di davanti si è fatto vedere anche Marco Melandri in staccata che non perde un metro Chats Demis a guidare la gara e adesso può fare il suo passo e se continua a girarsi prenda sedo, può anche mettere in crisi proprio sul piano del ritmo i suoi compagni di viaggio Johnny Ray e Marco Melandri, tutta da vedere questa gara, tutta ancora andrà a decidere anche perché è un po' più di ieri, sembra ecco Johnny Ray e quindi sicuramente cercherà di giocare da stopper e vedo Alex, quindi cercherà di tornare davanti a Levi Spiridio il nostro canale